Cari amici, un saluto da Nat Russo. Oggi è il 3 ottobre. Nel 1283, Daphid Afgrupind, principe di Kinez in Galles, diventa la prima persona giustiziata con il sistema del drugging and quartering. Insomma, un sistema molto crudele. Gli arti venivano legati da quattro cavalli che venivano frustati e mentre il corpo era atteso allo spasimo, qualcuno lo squartava l'altezza della vita. 1837, Samuel Morse brevetta il suo codice. Morse viene ricordato per avere inventato insieme ad Alfred Weid il telegrafo elettrico ed il relativo alfabeto, detto appunto Codice Morse, che da lui prese il nome. Compì anche esperimenti di telegrafia sottomarina via cavo. Nel 1839 si ha l'inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, nel regno delle due Sicilie. Era a doppio binario e aveva la lunghezza di ben 7,25 km. E siamo al 1942, negli Stati Uniti. White Crisman raggiunge il primo posto nelle classifiche. In seguito ne verranno venduti oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. White Crisman è una canzone scritta da Irving Berling, il cui testo è ispirato a quello di White Crismatzen. La mattina dopo aver scritto la canzone, Berling corse al suo ufficio e disse alla sua segretaria, prendi la pella, prendi appunti su questa canzone. Ho appena scritto la mia migliore canzone. Diavolo, ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto. Modestissimo il grande Irving. Bene, e siamo al 1952. Il Regno Unito testa con successo un'arma nucleare presso l'isola Montebello in Australia. L'operazione è denominata Hurricane e lascia sgomenta la popolazione. Anche perché legata indirettamente alla vicenda non possiamo dimenticare un film, L'ultima spiaggia on the beach, diretto da Stanley Kramer, interpretato da Gregory Peck, Anthony Perkis, Fred Esten e Ava Ghalter, dove un gruppo di persone attende la fine della umanità in seguito ad un vento nucleare che sta per arrivare. 1990, siamo in Germania, si verifica la riunificazione tedesca. La Germania Est confluisce nella Repubblica federale. E nello stesso anno si sciolgono i CCCP, fedeli alla linea. Originari della provincia di Reggio Emilia, sono stati un gruppo musicale punk rock italiano, considerati fra i più importanti ed influenti nell'Italia degli anni 80. Per oggi è tutto, un saluto dal Nat Russo, a presto.